Un sabato mattina assolato in una città pescara che è zona rossa, un sabato mattina assolato ma pieno di gente fino a poco fa, almeno in questo punto, uno dei punti chiave per la passeggiata del fine settimana, la riviera e in particolare la zona della Madonnina e del Ponte del Mare. Siamo venuti a vedere se le misure che sono previste in zona rossa, così come anche per la verità in zona arancione, vengono rispettate in questo punto ma un po' anche in tutta l'area metropolitana abbiamo girato. Ebbene non pensavamo, pensavamo di documentare una semplice mattinata di sole, in realtà ci siamo trovati di fronte almeno a tre episodi di tensione tra cittadini e forze dell'ordine. Con la telecamera di Diego Martelli abbiamo anche documentato qualcosa, perché? Perché le persone che sono in giro, che potrebbero essere in giro per i motivi che sappiamo, necessità, urgenza, portare a spasso il cane ok, si gira sotto casa con i bambini ok, attività sportiva ok, ma c'è molto altro in giro. C'è anche chi arriva, nel caso di una coppia che è stata fermata dai carabinieri che arrivava da Montesilvano e dice non sapevamo che la zona rossa prevedesse di rimanere dentro il proprio comune. Ebbene dopo un anno forse sono informazioni che tutti dovrebbero avere e quindi da Montesilvano a Pescara non si può andare se non per i motivi appunto di necessità e tutto quello che dovremmo ormai dopo un anno sapere. E' stato fermato anche un ragazzo che stava facendo il suo allenamento, stava correndo, fermato non perché stesse facendo qualcosa di male, mascherina abbassata, ma quando si fa attività sportiva si può, ma è stato fermato perché un po' è reagito male, dice io non faccio niente di male perché mi fermate e prendetevela con gli altri. Bisogna anche lì spiegare, le forze di polizia, carabinieri, polizia stradale, polizia municipale fanno quello che devono fare, dei controlli ovviamente random, un po' casuali, perché non si possono fermare tutti i cittadini che passano in questo punto e sono veramente tanti, ma ogni tanto se ne ferma qualcuno per vedere se sta osservando le regole previste. Inutile ribellarsi o cercare di scappare perché poi vieni portato via come è accaduto, perché bastava semplicemente dire sto facendo attività sportiva e lo posso fare perché sono nel mio comune. Se era così o no non lo sappiamo. Un altro episodio di tensione è un bisticcio fra cani e padroni, cani e padroni da una parte e poi sono arrivate anche qui le forze dell'ordine, carabinieri e poi polizia per cercare di dirimere la questione, insomma momenti di tensione, ma lì il covid c'entra poco, forse c'entra più il carattere fumantino dei proprietari dei pitbull coinvolti. Però questo per dire che non è una mattinata come le altre perché evidentemente c'è anche un po' di insofferenza in giro per le misure che vanno osservate. Certo è che, ripetiamo, controlli le forze dell'ordine possono farli a campione, si tratta di rispondere se si è in regola e di spiegare le ragioni per cui si sta passeggiando. Cosa c'è da dire ancora? Che proseguono le vaccinazioni, ieri a Pescara sono state circa un migliaio, proseguono nel pomeriggio di oggi al Palabecci con i docenti universitari, il personale universitario e invece domani pomeriggio toccherà ai professori e al personale delle scuole medie, delle scuole pescaresi. Poi da lunedì si riprende con gli over 80 a classe 1934-1935 e questo è il nostro racconto di un sabato mattina da Pescara.